E' la finita, sarà la finale della struttura propria pubblica per la pericolazione di Romanzi. A bene! Ma ci è un po' di amore. Ma gli han detto che non è una sprint. Sì, lo so, ma tanto lui ascolta due giri finiti. Ma gli è anche finita. Grazie a tutti. Sì, è ancora dietro a chi? Il cammellone da faccio! Pronti, a fine della testa di numeri, 427 e 26, 427 e 26 agli appunti in questa visione. E vediamo al giro di questo. Quanti mi mancano giusto quei 5 chilometri. Sì, no, esatto, 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 esatto. Sì, agli han detto il numero 427 e... 970, 427, 970, siamo tutti in questo giro, e siamo al giro con 4. Gli anni, di vero, di vero. Che faccia, no. Ancora, un passato sul reddito principale, abbiamo un cambio di seconda posizione, tra due a tre e il perluto. Teo, risali un po'. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.